Va bene, allora riprendiamo l'esercizio di ieri, che già funzionava in realtà, quello sulla procedura ricorsiva per espandere le colonne della schedina, quindi provando a descriverlo, intanto a distanza di 24 ore da ieri, vediamo se abbiamo un po' maturato la comprensione del meccanismo, noi stiamo costruendo una schedina a partire da un pronostico, quindi il pronostico è lo spazio del problema che vogliamo esplorare, che riassume quali sono tutte le alternative possibili da esplorare e la schedina sono le soluzioni che stiamo trovando, che sono possibili punti all'interno di questo spazio di soluzioni. La schedina la costruiamo incrementalmente un livello per volta e la scelta che abbiamo fatto è che ogni livello mette a posto una partita, un risultato, una riga successiva della schedina. Ad ogni livello devo esplorare, e lo faccio qua, quelli che sono tutte le possibili alternative di valori da poter inserire in quel livello. E poi passo al livello successivo. Questo è lo schema generale che è valido praticamente sempre, solo che ogni volta si dà un significato diverso al concetto di livello, si dà un significato diverso alla soluzione parziale che stiamo costruendo. e ovviamente la regola per decidere quali sono i valori possibili, i prossimi passi possibili dipenderà dal problema. Però concettualmente è lo stesso meccanismo. E quindi aggiungo costruttivamente un pezzettino in più alla soluzione e passo al livello successivo, insomma in modo ricorsivo. e ricordandomi sempre di fare backtrack, cioè rimetterle cose a posto dopo che le ho modificate. Poi abbiamo il caso finale, il caso terminale, in cui se l'informazione sul livello, a volte lo scopro dal livello, a volte lo scoprirò dalla soluzione parziale, andandola a guardare, andandola a valutare. Se mi dice che sono arrivato a una soluzione terminale, allora non faccio più ricorsione, ma direttamente ho una soluzione in mano e quindi la uso, uso questa soluzione. Adesso la cosa che vorrei migliorare di questo... innanzitutto chiedersi se ci sono domande e dubbi sul meccanismo di funzionamento di questa cosa. Sì, ma sono troppi. Ok. Quello che vorrei migliorare in questo momento è il comportamento di questa funzione che per ora stampa in uscita il risultato delle schedine. A noi non piacerà mai una cosa che stampa su system.out. Ciò che vorremmo fare, mettiamoci dal punto di vista del main, che quando io ho un pronostico P e chiamo la procedura espandi pronostico, questa mi risponda con una lista di schedine possibili, che poi se ho voglia stampo, se non ho voglia li devo lavorare a seconda di com'è. Quindi vorrei che il risultato non fosse una cosa void, ma una lista di soluzioni possibili. quindi questo qua sarà una java.util.list. Quindi questo espandi pronostico, anziché essere una funzione che attualmente è una funzione void, vorrei che restituisse l'elenco di tutti i risultati. Vabbè, è facile, basta scrivere anziché void list di schedina. Scriverlo è facile, però devo anche poi calcolarlo. Allora, io qua da questa funzione vorrei restituire i risultati, ma li scopro solamente qui dentro, i risultati. Qui dentro sono dentro una funzione che sarà, se pensiamo a una schedina completa, al tredicesimo livello di ricorsione. E poi attenzione, quando io trovo un risultato, è un risultato. Non tutti. Quindi risulta A molto difficile dall'interno, dalla profondità di molti livelli di ricorsione poter ritornare un valore al chiamante. Come faccio? Dovrei fare un return che poi ritornano un valore ma poi viene ritornato su dal livello 13 al 12, dal 12 all'11 e dall'11... Non posso bucare i livelli e dire torniamo su dall'inizio. Tutte le chiamate ricorsive devono completarsi in ordine inverso. Senza contare il fatto che alcune delle chiamate ricorsive magari hanno ancora del lavoro da fare. perché qui voglio tutte le soluzioni. E quindi per salvare... Primo, quindi da qui dentro non è facile restituire un valore e dopo di che qua ne trovo uno solo di valore e tutti gli altri... Quindi non potrei neppure qua fare un return al chiamante. Ciò che posso fare è fare in modo che quando io trovo una soluzione me la salvo, me l'accumulo da qualche parte. Quando le avrò trovate tutte le ritorno. Quindi questa lista potrebbe essere una variabile che creo qui e che dentro la ricorsione uso. Ad esempio potrei crearla come variabile a distanza qua privata. Soluzioni. E quindi quando mi viene chiesto dall'alto di espandere un pronostico inizializzo la lista delle soluzioni a una lista vuota ovviamente uguale new array list di schedina. Per ora non conosco soluzioni. poi chiamo la ricorsione la quale mi popolerà questa lista di soluzioni e alla fine spero che questa lista di soluzioni non sia più vuota e quindi il ritorno di spunto soluzioni al chiamante. quindi la procedura ricorsiva quando trovo una soluzione anziché stamparla a video semplicemente la aggiunge a questa lista. Questa lista soluzioni io qua ho scelto di usarla come variabile a distanza così direttamente accessibile anche al metodo espandi. Altrimenti se l'avessi creata come variabile interna a questo metodo pronostico l'avrei dovuta passare come ulteriore parametro qua tra i parametri di espandi. Quindi avrei dovuto passare il livello e anche la lista in cui posiziono il risultato. Però visto che qui entro di sono all'interno della stessa classe ha senso metterli insieme. Quindi vuol dire che qui cambierò l'operazione da fare a questo punto e semplicemente dirò che dis.soluzioni.add di parziale. Quindi quando trovo una soluzione anziché stamparla subito la aggiungo a questa lista di soluzioni. Quindi la ricorsione troverà tante soluzioni. Una volta che ne trovo una aggiungo alla lista. Quando tutto l'albero di ricorsione sarà terminato e quindi ritorna la chiamata ricorsiva di livello 0 vuol dire che ho finito tutto e questa lista conterrà tutte le soluzioni che via via sono state raccolte dal livello 13. A questo punto il chiamante le potrà stampare. Quindi qua potrò stampare le soluzioni trovate. qui per ora non abbiamo toccato l'algoritmo abbiamo solamente modificato il modo in cui restituiamo i risultati che è quel modo utile. Mi piace anche di più questo metodo perché prende come parametro un problema e restituisce le soluzioni di quel problema. È pulito. Poi dentro che sia complicato è un altro conto. ma l'interfaccia è pulita. Quindi se facciamo run di questo dovremo trovarci sempre la stampa delle soluzioni ma stampata questa volta dal chiamante, dal programminio di test e non direttamente dalla procedura ricorsiva. tranne che no. Dunque qui string index string index out of range, meno uno. vuol dire che a un certo punto ho usato un indice di un array che non era il suo nella schedina appunto java 45 nel two string e perché? Dunque qua nel two string di schedina stava concatenando i vari risultati. Non lo so. Andiamo a vedere. Allora scusate, fatemi eseguire. Allora qui lui ha stampato il pronostico. Ok. E poi la prima volta che cerca di stampare il risultato non ci riesce. Allora cerchiamo di capire perché. Ovviamente andando in debug. Quindi fermiamoci qui dopo che abbiamo calcolato le soluzioni e prima di stamparle. Quindi metto un breakpoint qua sulla riga 20. rilancio il programma in modalità debug. E vediamo un attimo. Ok. Ah no, qui c'era il breakpoint su expandi che avevamo messo ieri. Quindi magari lo togliamo. e facciamo continuare l'esecuzione. Sono rimasto qua. Allora qui vediamo le variabili di questo contesto. Quindi la ricorsione è già finita. Ok. Il mio cursore è qua. Sto per stamparlo. Soluzioni è una lista che contiene 24 soluzioni diverse e che è giusto perché sono due per due per tre per due fa proprio 24. Però queste soluzioni non riesco neanche a stamparle sono degli array list vuoti. Cosa ho sbagliato? Allora aspetta un attimo. Torniamo nella ricorsione. Cioè un attimo fa lo stampava adesso quando lo aggiungo alla lista allora rimettiamo la print così li vediamo prima stampati e poi nella lista dovrebbero esserci. Facciamo un altro run. Allora questo è il pronostico. Queste sono le soluzioni che abbiamo visto con i nostri occhi ieri le rivediamo ancora oggi stampate ma poi quando restituisce questa lista restituisce una lista di 24 soluzioni vuote e non 24 soluzioni che siano queste. Chi mi dice perché? parziale è una schedina un oggetto di tipo schedina è un oggetto di tipo schedina con cui io sto lavorando aggiungo, aggiungo, aggiungo elementi mentre scendo con la ricorsione tolgo, tolgo, tolgo elementi nel backtracking quando risalgo con la ricorsione. io ciò che sto facendo qua è aggiungere in questa lista 24 volte lo stesso oggetto qui è di nuovo una differenza tra riferimento e oggetto sto aggiungendo alla lista soluzioni il riferimento all'oggetto schedina tutte e 24 le volte per riferimento allo stesso oggetto schedina che si chiama parziale è sempre lo stesso oggetto di cui cambiamo i valori dopodiché è ovvio che quando io ritorno dal livello zero della ricorsione questa soluzione parziale visto che ho fatto il backtracking bene cioè ho lasciato le cose quando esco dalla ricorsione così come le avevo trovate quando sono entrato la soluzione parziale sarà così come l'avevo inizializzata prima di iniziare la ricorsione è vuota, ho tolto tutto ho fatto il backtracking di tutti i livelli e quindi sono tornato a zero cosa ho sbagliato? e non devo qua salvarmi il riferimento all'oggetto di lavoro che è quello che sto modificando nella ricorsione devo salvarmi un'istantanea un'osnapshot una copia di quell'oggetto devo prendere questo valore va bene me lo ricopio non mi salvo il riferimento quel valore lì che poi un attimo dopo lo cambierò perché continuerò con la ricorsione mi devo salvare una copia un clone quindi qua non dovrei salvare parziale ma parziale.clone se usiamo il metodo di cloning che abbiamo visto la volta scorsa oppure mi pare se non ricordo male che in questa oggetto schedina avevo già predisposto quello che si chiama un clone constructor cioè un costruttore clonante tu per clonare un oggetto lo puoi fare o usando un metodo clone che restituisce una nuova copia di si stesso eccetera oppure direttamente aggiungere un costruttore che crea una schedina partendo da un'altra schedina e ne crea una nuova ricopiando dentro clonando i dati della singola schedina dell'altra schedina è un po' quando appunto se vogliamo copiare un array list dentro un'altra array list possiamo fare new array list e passare come parametro il riferimento alla prima questa mi copierà una nuova lista con gli stessi elementi di prima qui non basta solo copiare gli stessi elementi quindi devo anche creare nuovi elementi nuovi dati e quindi posso usare questo con due modi diversi di fare la stessa cosa o mettere un metodo clone oppure mettere un costruttore clonante e a questo punto creo un nuovo oggetto di tipo schedina che sia la copia il clone istantaneo del valore che aveva la parziale in quel momento poi a questo punto parziale lo potrò modificare ma la soluzione aggiunta rimane quindi ricordiamoci sempre quando siamo nel profondo della ricorsione vogliamo salvare qualche cosa vogliamo sempre salvarne una copia non un riferimento quindi andiamo avanti e questa volta per fortuna mi stampa quest'ultima riga la print line che ho fatto dal chiamante mi stampa l'elenco di tutte le soluzioni che ovviamente saranno 24 quindi qua posso a questo punto ritogliere ricommentare questo codice e vedo più direttamente il problema posto e la soluzione trovata ok? va bene va bene si si a cosa servono le classi cioè quale significato che viene la schedina che viene la schedina la previsione e la pronostica che a cosa servono le classi cioè quale il significato della classe previsione e della classe pronostico allora prendiamo il diagramma delle classi qua che abbiamo visto ieri una schedina un risultato è una costante ok? 1,2,x l'ho usato come in un potrei usare una stringa un carattere un numero uguale quella è una costante una schedina è un elenco di risultati quindi una colonna con 1,2,x per ciascuna parola poi ciascuna partita quando però questo è il risultato che ottengo se voglio rappresentare invece il pronostico che era aspetta lo faccio rando di nuovo così che è questo 2,1 per la prima partita x,1 per la seconda x,2,1 per la terza e così via avrò una lista non di risultati perché il risultato è uno solo o x o uno o due ma una lista di set di risultati in prima posizione ho il set 2,1 in seconda posizione il set x,1 in terza posizione il set x,2,1 e così via allora la classe previsione è il set di cui stiamo parlando quindi questa classe previsione se andiamo a vedere dentro contiene un set niente niente di più dove è la previsione qua che un set di valori che sono dei risultati un set di risultati una sola partita i risultati possibili per una sola partita e quindi visto che il risultato può essere solo 1,2 o x una previsione potrà essere un insieme che contiene questi tre elementi quindi o l'insieme che contiene solo 1 o solo 2 o solo x o solo 2 x oppure 1 x 2 eccetera ok? quindi è di nuovo un valore una costante che non contiene un solo risultato possibile ma un insieme di risultati possibili per una partita è la previsione del risultato di una partita mentre invece il pronostico è la previsione del risultato di tutte le partite è una lista di previsioni quindi così come la schedina è una lista di risultati il pronostico è una lista di insiemi di risultati ok? avrei potuto fare le cose più grezzamente dire ok ma la previsione è una stringa in cui dentro c'è scritto 1 x e quindi allora il pronostico sarebbe stata semplicemente una lista di stringhe allora avrei dovuto dentro la procedura ricorsiva andare a prendere questa stringa analizzare carattere per carattere e fare la ricorsione sulle stringhe io quando possibile cerco sempre di rappresentare le cose non come stringhe come dati grezzi ma come oggetti che rappresentano il valore che rappresentano il significato perchè dentro la schedina non abbiamo potuto gestire tutte le combinazioni di risultati? perchè dentro la singola schedina non abbiamo potuto gestire tutte le combinazioni di risultati? perchè la schedina l'ho definita come lista di risultato singolo una lista di risultato allora uno io ho due questa cosa qua è una struttura di dati bidimensionale due partite e per ogni partita ho i risultati possibili quindi una lista solo di risultati non mi basta perchè mi da un risultato possibile io voglio che sulla terza partita gestire due tre risultati possibili quindi una lista di risultati non mi basta perchè quella lista sarebbe ambigua non capirei non capirei se sto facendo la lista dei risultati possibili per la prima partita primo secondo risultato possibile oppure sto facendo la lista delle partite qui per come è fatto la schedina contiene una lista ciascun elemento di questa lista è relativo a una sola partita e qual è l'informazione che le serve per una partita? semplicemente il risultato il singolare risultato se ho più di un risultato la struttura dati di schedina non mi basta mi serve una struttura più complicata che ha un grado di libertà in più per ogni partita ho qui l'ho fatto come set potrebbe essere una list di valori questo è un modo per fare una struttura dati bidimensionali ho fatto una lista di liste di set va bene ok? cioè ce l'abbiamo anche qua il pronostico qui è disegnato con una matrice 13x3 13 righe che corrispondono alle partite e per ciascuno 3 risultati possibili che si possono combinare in tutti i modi io ho di fatto il pronostico sarebbe l'intera matrice 13x3 la previsione sarebbe l'insieme di queste tre caselline quindi una previsione un'altra previsione un'altra previsione un'altra previsione e così via la singola scadina è poi l'output sarebbe un output in cui c'è solamente non è prevista qua in cui ogni singolo valore che si può ottenere per espansione del pronostico proviamo a cambiare esempio così vediamo che è andato il mio amico il quadrato magico forse non ce l'ho nella slide non mi ricordo perché talmente no non ce l'ho nella slide farò stesso proviamo a cambiare esercizio mettiamo un attimo in pensione questo questo progetto e voi conoscete il problema del quadrato magico il problema del quadrato magico semplicemente significa proviamo a scriverlo no questo qua non c'è ancora su github c'è l'anno scorso ma lo stiamo rifacendo da zero insieme ho creato un progetto vuoto un minuto fa prima di venire allora il problema del quadrato magico cosa devo fare? dato un numero intero n costruire un quadrato di n per n caselle ciascuna delle quali contiene un numero tra 1 e n i numeri devono essere tutti diversi tra di loro il quadrato si dice magico se la somma dei numeri di ciascuna di ciascuna riga di ciascuna riga la somma dei numeri di ciascuna colonna e la somma dei numeri su ciascuna diagonale tutte queste somme sono uguali quindi se faccio la somma di numeri della prima riga viene un numero viene un valore la somma la somma di numeri sulla seconda riga viene lo stesso valore terza riga uguale seconda colonna uguale ok? qualunque somma io faccia mi da sempre lo stesso valore che noi dobbiamo riuscire a trovare dato un lato un quadrato di lato 5 se esiste una disposizione dei numeri dall'1 al 25 non tra 1 ho sbagliato non tra 1 e n ma tra 1 e n quadro ovviamente se ho n per n caselle i numeri andano da 1 a n quadro da 1 a 5 per 5 o i numeri da 1 a 25 disposti senza ripetizione altrimenti basterebbe mettere tutti 1 e siamo a posto no, non devono ripetersi quindi devono essere tutti i numeri da 1 a 25 distinti tra di loro nelle 25 caselle messi in modo che le somme quadrino ok? esempio boh sono pigro lo prendo da wikipedia beh, guardalo qua questo è un quadrato magico di lato 3 2 più 7 è 9 più 6 è 15 eccetera eccetera non mi sorprende che al 100 ti sia il 5 che è il numero di mezzo però vabbè se mi avessero detto prova a costruirlo a mano io avrei messo come prima cosa il numero di mezzo al 100 perché così le somme però poi mi sarei fermato lì avrei dovuto provare altre possibilità noi vogliamo non solamente riscoprire questo quadrato magico ma poterne generare uno di lato qualsiasi tra l'altro se vogliamo è anche facile sapere quanto deve valere questa somma cioè anche prima di costruire il quadrato magico di lato 7 posso sapere quanto vale la somma e quanto vale la somma di tutti i numeri su una riga e beh se sono prendiamo il caso 3 per 3 farò la somma dei numeri da 1 a 9 diviso 3 cioè nel quadrato dovremmo essere tutti i numeri tra 1 e 9 però sono divisi in 3 righe quindi ogni riga avrà un valore che se è uguale a 3 per tutti è la somma dei numeri da 1 a 9 quindi 9 per 10 diviso 2 diviso 3 9 per 10 diviso 2 fa 45 diviso 3 è 15 quindi il valore scriviamocelo pure l'abbiamo scoperto il valore delle somme sarà n per n meno 1 scusate n più 1 perché parto da 1 non da 0 diviso 2 che è dalla somma dei valori da 1 a n quadro 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 n quadro per n quadro più 1 diviso 2 il tutto diviso n diviso diviso il numero di righe diviso il numero di righe prendiamo un strumento sofisticato la calcolatrice di windows prendiamo che n uguale a 4 allora i numeri danno da 1 a 16 la somma dei numeri tra 1 e 16 è 16 per 17 diviso 2 16 per 17 diviso 2 fa 136 quindi la somma di tutti i numeri nel quadrato fa 136 in ogni riga ci sarà un quarto 34 quindi un quadrato magico di lato 4 mi darà le somme tutte uguali tutte pari a 34 quindi avrei già fatto questo piccolo passo di analisi ovviamente mi semplificherà l'algoritmo ok? ok allora come lo costruiamo? analisi del problema ragioniamoci allora noi possiamo pensare di costruirlo se usiamo l'approccio ricorsivo una casella per volta quindi immaginiamo il caso 3x3 io devo riempire questa matrice 3x3 con dei numeri inizialmente è vuota io posso avere due approcci diversi di solito ne posso avere sempre molti approccio 1 ad ogni livello l della ricorsione scelgo quale valore inserire nella casella l cosa vuol dire? che al primo livello di ricorsione mi concentro sulla prima casella in alto sinistra quindi dirò ad esempio al primo livello mi chiedo qua ci metto un 1 ci metto un 2 ci metto un 3 ci metto un 4 quindi il primo livello della ricorsione l uguale a 0 se contiamo le caselle da 0 mi concentro su quella casella lì e non guardo le altre quali sono tutti i valori possibili quindi saranno da 1 a n4 le scelte alternative per questa casella poi fatto questo passerò al secondo livello quindi se l è uguale a 0 faccio questo lavoro supponiamo di aver scelto 4 livello 0 passo a livello 1 dove il 4 è fisso e mi chiedo qua cosa metto qui? metto un 1 metto un 2 metto un 3 non provo a mettere il 4 perché c'è già e quindi sarebbe vietato metterlo una seconda volta provo il 5 provo il 6 provo l'8 eccetera eccetera 7 scusate quindi ad ogni livello mi concentro su una casella e dico guarda cara casella proviamo a metterli dentro tutti i numeri leciti a livello 3 mi concentrerò su questa casella e così via questo è un approccio ad ogni livello che scendo mi sposto di una casella quindi avrò sempre una parte della matrice che è piena di numeri e la parte della matrice che è vuota perché deve essere ancora popolata questo è un modo quando arrivo al livello n quadro vuol dire che ho già riempito n quadro caselle e quindi ho un quadrato pieno di numeri dovrò chiedermi sì ok va bene ho riempito un quadrato di numeri ma le somme tornano? può darsi che di solito no non tornano e allora ho trovato una soluzione la butto via oppure può darsi di sì qui ho questo meccanismo mi permetterà di generare tutti i possibili quadrati di cui una piccolissima parte forse sarà magica cioè avrà le somme che quadrano e io uso la ricorsione per generarli tutti e poi nel credo terminale vado a fare i conti sulle somme e mi dirò quadra o non quadra lo tengo o lo butto via ok? invece qualcun altro potrebbe ragionare in un modo diverso approccio 2 ad ogni livello l decido dove mettere il numero diciamo l più 1 se i livelli conto da 0 il numero cioè in questo altro approccio un modo diverso di risolverlo altrettanto buono a livello 0 mi chiedo dove metto 1 allora i tentativi che faccio qui è un modo diverso di esplorare lo spazio delle soluzioni a livello 0 mi chiedo dove metto 1 lo posso mettere qui lo posso mettere qui lo posso mettere qui magari posso metterlo qua quindi avrò 9 posti a livello 1 a livello 0 perdono in cui inserire il valore 1 e lì proverò tutti e 9 e ovviamente al livello 1 mi chiedo dove metto il 2 e quindi l'1 è già messo qua e allora mi chiedo dove metto il 2 dove è il mouse lo metto qua lo metto qua lo metto qui lo metto qui lo metto qui qui non ci provo a metterlo perché la casella è già occupata lo metto qui eccetera quindi ad esempio magari lo metto qua e così via a un certo punto arriverò al livello 9 che ho riempito la mappa con tutti i numeri l'ho riempita con un metodo completamente diverso io qui al certo livello di ricorsione la mappa è riempita in modo un po' disordinato un po' numeri qui un po' numeri là mentre prima c'era la metà sopra piena la metà sotto vuota qua no ma so esattamente quali sono i numeri che sono contenuti quindi al livello 5 io so già che ho i numeri da 1 a 5 già messi devo mettere il 6 sono messi in posti strani ma sono i numeri da 1 a 5 nell'altro caso nell'approccio 1 io al livello 5 sapevo che avevo le prime 5 caselle libere scusate già occupate con i numeri qualunque potrebbero essere degli 8 o dei 9 quale è meglio? è uguale ci sono due modi completamente diversi di esplorare soluzioni si troveranno le stesse soluzioni ma sicuramente in un ordine diverso dipende quale vi viene meglio come ragionamento questo è un esempio relativamente semplice ma già si vede che si può approcciare in modi molto diversi è più facile implementativamente il primo perché solamente è più comodo quando io costruisco una struttura di dati riempirla in ordine nel secondo caso è un pochino più scomodo perché dovrei riempirla in disordine quindi tenermi traccia non solamente degli elementi che ho messo ma di dove li ho messi mentre nel primo caso dove li metto è implicito perché se sono a livello 5 sono sicuramente il quinto elemento quindi terza riga, secondo elemento della seconda colonna no? ma concettualmente sono altrettanto validi e non è detto che non ce ne possono essere altri non vedo facce troppo convinte riuscite a palesarmi i dubbi? stiamo inventando un metodo di esplorazione sistematica di tutte le possibili costruzioni di quadrati devo darmi una regola da applicare a macchinette in modo stupido senza più doverci pensare per essere sicuro di non ripetere più volte le stesse cose di non avvitarmi in cicli infiniti ripetendo sempre le stesse cose o non dimenticare delle soluzioni ok? e questo lo faccio per farlo per ordine un livello alla volta e in ogni livello mi obbligo a vedere solamente una parte del problema nell'approccio 1 la parte del problema è cosa ci metto in questa casella nell'approccio 2 la parte del problema che vedo è dove metto il 7 in ogni caso le scelte che faccio ad un livello dipenderanno dalle scelte che ho fatto nei livelli precedenti perché se qui ho messo un 4 a livello 0 qua non ci potrò più mettere un 4 e neanche a livello 9 qua non ci potrò più mettere un 4 quindi ad ogni livello le scelte che faccio dipendono da ciò che ho scelto in tutti i livelli precedenti che è diverso nel caso della schedina invece no ad ogni livello c'erano quelle due o tre alternative quelle erano sempre dimmi non ho deciso tu mi chiedi perché ho deciso di mettere 4 qua sopra non ho deciso di mettere 4 la procedura ricorsiva prova a mettere 1 e vede cosa succede dice se metto 1 ci sono delle soluzioni non lo so chiediamolo alle mie sottoschiave ricorsive poi vabbè che ci siano non ci siano dice proviamo invece adesso metterci 2 e poi fa tutto esplora tutte le possibilità conseguenza dell'aver messo 2 nella prima casella poi toglie il 2 ci metto un 3 e dice adesso vediamo cosa succede col 3 quindi la ricorsione non decide mai a priori cioè io qui il 4 non è la soluzione che la ricorsione ha deciso di mettere è una fotografia nel tempo che dice ok in questo stante se fermasse la ricorsione vedo che ci ha messo un 4 lascio andare avanti un po' ci mette un 5 lascio andare avanti un po' ci mette un 6 le prova tutte quindi in quella prima casella ci andanno a finire tutti i valori possibili prima l'1 poi il 2 poi il 3 poi il 4 per ciascuno di questi valori blocco la prima casella e mi chiedo ok adesso nella seconda casella ci mettiamo tutti i valori possibili quando ragiono sulla seconda casella do per bloccata la prima non la tocco più pur sapendo che non è detto che quel valore che ho bloccato sia il valore giusto fino a quando non arrivo in fondo alla ricorsione non c'è giusto o sbagliato solamente quando sono arrivato in fondo che ho riempito tutto il quadrato allora posso guardarlo e dire ok è giusto oppure sbagliato dimmi operativamente la ricorsione mi chiedi completa un ramo e poi passa quello successivo oppure li considera tutti in parallelo allora la risposta è un ramo alla volta ciò che fa la ricorsione prendiamo approccio 1 che è più facile ok cosa fa la ricorsione? fatemi scrivere il quadrato in fila non 3 per 3 ok allora al primo livello lei proverà a fare 1 mette 1 poi prova a mettere 2 poi prova a mettere 3 però attenzione prima di mettere 2 c'è tanto lavoro da fare ha messo 1 e ricorsivamente chiede al livello 2 tocca a te e al livello 2 proverà a mettere non 1 che c'è già proverà a mettere 2 poi 3 poi 4 poi 5 attenzione che però quando ha messo 2 prima di passare a mettere il 3 deve considerare le conseguenze dell'aver messo il 2 e quindi ricorsivamente chiede alla procedura del livello 3 adesso fai tu la quale prova a mettere 3 poi 4 poi 5 poi 6 poi 7 ma attenzione che dal livello 3 ha messo 3 ha provato a mettere 3 prima di provare a mettere 4 deve vedere le conseguenze di aver messo 3 e quindi chiamerà la procedura del livello 4 che proverà a mettere 4 poi 5 poi 6 poi 7 poi 8 poi 9 ma scusate se lo ripeto eh ma la procedura del livello 4 dopo che ha provato a mettere 4 prima di provare a mettere 5 deve chiedere ricorsivamente 6 7 8 9 il livello successivo ma anche qua tra il 6 e il 7 ci sarà 7 8 9 che sono i tentativi che sono rimasti nella procedura del livello 7 la procedura del livello 7 dopo che ha messo 7 chiede al livello 8 prova tu e lei prova 8 e 9 la procedura di ma tra l'8 e il 9 sono i tentativi che fa la procedura di livello 8 ma non è ancora il caso terminale quindi deve chiedere alla procedura di livello 9 di mettere un valore e la procedura di livello 9 poverina i numeri li hanno già presi tutti gli è rimasto solo il 9 e qui siamo a un caso terminale il quadrato ha fatto da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 che non è magico manco a pagarlo perché c'è tutti i numeri piccoli sopra tutti i numeri grandi sotto e dico no abbiamo fatto tutto il suo lavoro per niente il primo ramo a questo punto la procedura di livello 9 ha finito l'unico tentativo che aveva l'ha provato a fare ed è fallito torna indietro allora a questo punto la procedura di livello 8 dice va bene io ho provato l'8 ma ho ancora il 9 da provare metto il 9 dove nella penultima posizione e chiedo ricorsivamente la procedura di livello 9 prova tu cosa è rimasto la procedura di livello 9? un 8 libero che non è stato usato prima e quindi abbiamo il quadrato che ha fatto 1 2 3 4 5 6 7 9 8 7 9 8 non 8 9 che ovviamente neanche lui è magico ok allora questa procedura di livello 9 torna con le pive nel sacco dicendo non ho trovato una soluzione ritorno alla procedura di livello 8 che dice ma io avevo due tentativi l'8 e il 9 li ho provati entrambi non ho più niente da fare allora torno alla procedura di livello 7 dicendo ok io ho provato il 7 dal 7 è soltanto generato una serie di combinazioni 2 che non hanno dato esito va bene ma io ho altre frecce nella faretra da ancora da scoccare ho ancora l'8 e il 9 allora metto l'8 e a questo punto chiedo la procedura successiva attenzione questo 8 dove l'abbiamo messo? in basso sinistra 1 2 3 4 5 6 8 e allora dopo cosa farò? beh la posizione successiva proverà a mettere 7 e 9 dopo aver messo 7 potrà mettere l'8 dopo aver messo il 9 potrà mettere 7 quindi la procedura di livello 7 prova a mettere 8 nella casella in basso sinistra poi chiama la procedura di livello 8 che ha due valori possibili da giocarsi il 7 e l'8 prova a mettere prima il 7 e poi chiama ricorsivamente quella di livello 9 che metterà l'8 e non va bene tornerà indietro quella di livello 9 al livello 8 quella di livello 8 toglie il 7 che non andava bene e mette il 9 che è l'altra alternativa poi chiama ricorsivamente quella di livello 9 la quale ha solo il 7 prova a metterlo vede che non va bene allora la nostra procedura di livello 7 quindi la 9 muore finisce la 8 finisce perché non ha altre alternative quella di livello 7 ha ancora una cartuccia da giocarsi può provare a mettere il 9 e da qua avanti andiamo avanti così no? hai capito che il 9 significa andare a mettere poi un 8 e un 7 oppure un 7 e un 8 e tutte queste cose ovviamente falliranno e allora questa procedura di livello 7 ha detto io tutto quello che sapevo fare l'ho fatto ho provato a mettere il 7 e ho visto cosa succedeva ho provato a mettere l'8 visto che succedeva ho provato a mettere il 9 visto che succedeva fine torniamo a chi mi ha chiamato la quale aveva provato a mettere 6 la procedura di livello 6 ha capito che non serve e allora proverà a mettere 7 non abbiamo tempo di fare tutte le 9 fattoriali combinazioni ovviamente noi no il computer si però il meccanismo è questo io vado giù giù fino in fondo e di fatto lavoro sugli ultimi numeri un po' come abbiamo visto sulla schedina i numeri che si muovono più rapidamente sono gli ultimi considero sempre solo una soluzione per volta quindi mano mano che scendo nella ricorsione costruisco una soluzione arrivo in fondo la guardo e rimbalzo su rimbalzo poco la maggior parte dei rimbalzi saranno sugli ultimi numeri quando esaurito tutti i rimbalzi possibili sugli ultimi numeri torno un pochino più indietro sui numeri precedenti prima che questo 1 diventi 2 ne passa passano 8 fattoriali e tentativi diversi perché prima che l'1 diventi 2 questo 2 deve essere diventato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e perché questo 2 diventi 3 è necessario che questo 3 diventi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 allora se cerchiamo di pensare l'insieme di tutte le combinazioni ci perdiamo ovviamente perdiamo il filo mentre invece se pensiamo al lavoro che deve fare ogni singola colonna capisci che questa colonna qua ha del 3 lei deve fare sa che deve fare 3 e poi 4 cosa succede tra quando ha messo 3 e quando ha messo 4 non è più un problema suo è il problema della chiamata ricorsiva successiva quindi ogni chiamata ricorsiva vede solo una colonna di questo disegno la sua colonna però se andiamo a vedere lo sviluppo nel tempo vediamo le righe vediamo chi si costruisce per righe poi torna indietro poi la riga successiva eccetera vi è un po' più amico così? se non altro pensate al lavoro che fa lui non dovete far voi possiamo interrompere prima della fine allora lui mi chiede possiamo interrompere prima della fine allora in realtà ci sono due tipi di problemi ci sono dei problemi in cui voglio tutte le soluzioni e allora non lo interrompo finchè non le ho provate tutte il problema delle schedine era così oppure ci sono dei problemi come potrebbe essere questo in cui mi basta una soluzione cioè di quadrati magici di lato 3 ce ne saranno non so una quindicina cioè quello lì quello di wikipedia più quello ribaltato di così più quello ribaltato in orizzontale più quello ribaltato in diagonale eccetera quindi anche solo lavorando con le simmetrie ne trovi 7 e 8 ti interessa trovarli tutti? se si la ricorsione te li trova tutti se ti interessa trovarne almeno uno allora la procedura ricorsiva in fondo quando troverà un sì dovrà trovare il modo di interrompere tutta questa catena di chiamate ma vediamo quando un if si fa no, però dicevo interrompere la ricerca cioè magari è tutto uguale ok ok, sì sì quindi uno può dire noi adesso stiamo facendo immaginando per semplicità no, per gradi una procedura ricorsiva che genera tutte le soluzioni e solo alla fine va a vedere la bontà di queste soluzioni perché in generale io se la soluzione completa posso dire è buona o non è buona ci sono dei casi particolari in cui è possibile già capire che una soluzione parziale non è buona ad esempio qui 1 più 2 più 3 non fa 15 allora anziché dire io metto il 3 e poi faccio chiamate ricorsive io metto il 3 vedo che sono pirla e non faccio più niente tolgo subito quel 3 perché in questo caso ho un criterio che mi permette di accorgermi che da qua in avanti tutte le soluzioni che troverò saranno tutte no però questo è un caso particolare non è detto che si riesca a fare sempre quando si riesce sicuramente sì questa operazione viene detta di pruning potatura cioè un albero di possibilità io taglio un ramo più vicino alla radice e questo qua mi fa potare tutto il ramo tutto quel ramo e tutti i suoi sottorami perché mi sono accorto molto prima di andare avanti di arrivare alle foglie che tutto quel ramo non serviva a niente non avrebbe portato frutti e quindi lo poto in modo anticipato in questo caso riesco a farlo alla terza e alla sesta ricorsione dopo che ho completato una riga e dopo che ho completato due righe con questo approccio qui con l'altro approccio sarebbe più difficile fare potature perché ho i numeri messi sparsi e quindi non so dirti in modo sistematico quando è che riesco a fare dovrei andarmi a cercare ah c'è per caso casualmente una colonna già fatta allora faccio la sua somma diventerebbe più difficile potare quindi dipende dai casi però la risposta è sicuramente sì sono tutte aggiunte che possiamo fare lo schema base è molto semplice poi da lì si può migliorare chiaramente per ragioni di efficienza mi interrompo appena trovo la prima soluzione non vado ad esplorare parti dello spazio di ricerca che so già che in qualche modo non porteranno risultati e così via ok? allora questa cosa qua implementativamente poi alla fine è molto simile a quella di prima nel senso che io ho un oggetto anzi più semplice perché non ho un problema ogni volta diverso da risolvere ho un lato mi costruisco il quadrato quindi ho provato già ma solo scrive due righe una classe quadrato che per me può avere una dimensione che è la cosa importante il lato di questo quadrato e la lista ho chiamato mappa la lista dei numeri interi messi di dentro ho messo una lista e non un array cioè perché non ho fatto un array java ma prima perché gli array nativi non mi piacciono preferisco sempre usare le collection secondo perché quando rifisco un array io ho già fisso il numero di caselle e quindi ho il problema poi aggiuntivo di capire quali caselle sono piene e quali caselle sono nuove vuote mentre invece con una lista parto con nessuna casella e ne aggiungo man mano che mi servono e qui l'ho fatto come una lista che è una struttura unidimensionale poi sarò io che dovrò immaginarmi la sottoforma di quadrato ma come già facevamo nell'esempio abbiamo messo i numeri in fila poi sapevamo che i primi tre sono sulla prima riga i secondi tre sono sulla seconda i terzi tre sono sulla terza non è una grossa difficoltà basta fare numero di colonna per più numero di riga per tre e ottengo la posizione all'interno della della struttura lineare e mi permette di lavorare con un indice solo l'abbiamo già anche scritto qui la casella L dovrei dire la casella che sta nella riga nella colonna tra dei tali e beh, li metto insieme in un unico indice che le percorre nell'ordine logico ok, allora abbiamo questa classe semplicemente non c'è niente in questa classe ci sono solamente appunto come dicevo size e mappa gli altri sono i getter e setter di di dovere e quindi facciamo una classe che è quella vera di ricerca cerca quadrato la classe cerca quadrato che conterrà l'implementazione ricorsiva dell'approccio che abbiamo provato a studiare insieme allora ormai abbiamo imparato che di solito ci servono due metodi uno che è l'interfaccia pubblica alla ricerca e uno che è il metodo ricorsivo vero e proprio l'interfaccia pubblica ci serve per preparare i dati che servono creare le collection di appoggio e poi formattare il risultato nella forma che serve la chiamante e quella interna invece lavora secca sulla ricorsione partiamo da quella interna allora cosa fa questa procedura su cosa lavora ricordiamoci che lavora su un certo livello l'abbiamo chiamato L nella descrizione testuale continuiamo a chiamarlo L qua quindi ha un livello e ha un quadrato parzialmente riempito quindi quadrato no mettiamolo prima quadrato parziale quindi se sono a livello L L uguale 0 vuol dire che ho 0 caselle già messe e devo mettere un valore nella casella di numero 0 se sono L uguale 4 vuol dire che ho 4 caselle già messe 0, 1, 2, 3 e dovrò mettere un valore nella casella 4 come prima usiamo le stesse convenzioni contiamo le caselle da 0 quindi diciamo che diciamo che data le caselle le L caselle da 0 a L-1 sono piene devo trovare un valore per la casella L di posizione L di posizione L diciamolo meglio in posizione L a meno che il quadrato sia già completo quindi se per caso come faccio a sapere il quadrato se il quadrato è completo? se L se il numero di caselle già piene è uguale alla dimensione del quadrato e la dimensione del quadrato qual è? è parziale punto get size per parziale punto get size allora se sì il quadrato è tutto pieno devo verificare se è magico quindi avrò una qualcosa del tipo if parziale punto is magic e questo metodo is magic si farà tutte le somme è un metodo della classe quadrato ovviamente è lui che sa se is magic allora farò beh me lo salvo da qualche parte quindi possiamo immaginare di avere anche qua una lista di quadrati quadrato soluzioni e quindi qua andrò ad aggiungere add di parziale anzi un clone di parziale oh qui sto scrivendo codice a caso è tutto da implementare ancora no? però è ciò che dovrò fare nel caso terminale ho un quadrato che è pieno di numeri quindi ho una soluzione completa questa soluzione completa è valida o no? is magic e se è valida la salvo e poi basta return il codice messo così mi genera tutte le soluzioni possibili e immaginabili perché dopo che ho trovato una soluzione e l'ho salvata la ricorsione ovviamente torna indietro da quel rametto in cui era tornata ma continuerà a esplorare tutti i possibili altri cammini e poi per quanto riguarda invece la parte principale della ricorsione perché questo avviene solamente all'ultimo livello dove noi abbiamo messo la frecciolina sui frecciolina no anzi la frecciolina sui non abbiamo avuto il piacere di metterla negli altri casi devo fare il ragionamento generico vado a valutare tutti i possibili numeri che provo a inserire nella casella L quindi quali sono tutti i possibili valori? beh i valori che posso testare sono chiamiamolo i da 1 fino a fino a n4 quindi sempre parziale punto get size per parziale punto get size i più più quindi quindi provo a mettere il valore i nella casella L qui sarà un parziale punto add di livello 0 provo a mettere 1 poi provo a mettere 2 poi provo a mettere 3 sempre nella stessa casella ovviamente dopo che ho provato a mettere un valore in una casella dovrò toglierlo perché provo a mettere 1 tolgo 1 provo a mettere 2 tolgo 2 provo a mettere 3 eccetera eccetera e dopo che ho provato a mettere 1 nella mia casella ho finito il mio lavoro perché devo ricostivamente chiedere agli altri di lavorare sulle caselle successive e quindi semplicemente cerca parziale L più 1 adesso qui manca ancora un controllo perché noi sulla prima casella vale così devo provare tutti i numeri da 1 a n quadro da 1 a 9 ma già al secondo livello se L è uguale a 1 dovrò provare tutti i numeri da 1 a 9 tranne i numeri che erano già stati usati in precedenza perché non voglio duplicati allora come faccio? beh, prima di aggiungere un numero controllo che non ci sia ancora se not non è vero che il parziale contiene i cioè i non è ancora contenuto dentro parziale o contenso ovviamente lo puoi implementare remove anche ma sono semplicemente dei metodi che delegano alla lista sottostante quindi io provo ad aggiungere i se i non c'era già quindi vado a vedere tutti i numeri da 1 a 9 mi chiedo l'1 c'era già? no, allora lo provo il 2 c'era già? sì, allora non lo provo e basta è finito qui cos'è che mi dice che sto cercando quadrati magici? questa riga qua io potrei cercare quadrati i cui numeri abbiano che ne so siano tutti crescenti tutti crescenti siano, vadano singhiozzo inventatevi la proprietà che volete basta cambiare quel metodo cos'è che mi dice che i quadrati che genero devono avere numeri tutti diversi tra di loro e quindi di fatto sono una permutazione senza ripetizioni dei numeri da 1 a 9 da 1 a n4 questa riga qua se togliessi questa riga costruirai tutti i quadrati possibili con tutte le combinazioni possibili di valori anche ripetuti metto questa riga tolgo le ripetizioni quindi se tolgo questa riga ho tutte le combinazioni possibili anche ripetute quindi avrei 9 alla 9 altrimenti con questo ne so solo tra virgolette 9 fattoriale cioè n quadro fattoriale questo è la... si dimmi scusa si, minore uguale hai ragione grazie certo perché il valore 9 cioè n quadro devo usarlo certo allora questa è la versione più semplice poi per fare le cose che dicevamo prima fermarmi quando trovo la prima soluzione o fermarmi quando ho già un risultato parziale che mi dice di fermarmi devo aggiungere tipicamente qua questo if si può arricchire metto delle condizioni più selettive che mi dicono quando è il caso di continuare così come quando trovo una soluzione anziché dire va bene poi ne cerco altre potete cercare di uscire da qua allora io cercherei come primo passaggio di portarlo a termine così che nella sua versione più semplice e poi ragioniamo su come migliorarlo aggiungere queste altre due feature di tipo fermarsi prima che è la più importante e potare l'albero di ricerca l'altra cosa con cui ci divertiremo quando questo sarà finito ma ormai è praticamente finito quindi potete già giocarci implementandolo in 10 minuti lo finite è vedere due cose contare per ogni lato quanti quadrati magici ci sono e vedete che non è una funzione tanto regolare due fino a quale quadrat fino a quale lato riuscite a calcolare i quadrati magici 3 4 5 8 10 20 andiamo a vedere quanto tempo ci mette voi avete fatto gli esercizi per calcolare la durata l'efficienza dell'array list rispetto alla linked list proviamo qua l'efficienza come cresce velocemente perché c'è di mezzo un fattoriale e quello picchia forte ok vi lascio giocare la prossima volta ci divertiamo insieme a vedere i risultati grazie 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 grazie